Ciao a tutti, grazie Guido, grazie Presidente, io porto il saluto della nostra splendida provincia, la provincia di Como, porto il saluto di tutti i sostenitori, parto da loro e parto dai nuovi, dai nuovi iscritti che si sono avvicinati al movimento anche nella nostra provincia e anche a Como per l'anno 2015, Patrizia, abbiamo fatto un sacco di tessere e sono entrati tanti, tanti nuovi iscritti, porto il saluto di tutti i nostri militanti rappresentati nelle sei circoscrizioni, la circoscrizione parto dal Lago, parto dalla circoscrizione di Lezzeno, porto il saluto del Mandel, da una zona ricca di tradizioni dove si lotta per difendere il nostro lago, i nostri prodotti, la nostra terra, porto il saluto dalla circoscrizione di Cantù e vedo qui il segretario Roberto Moscatelli con i militanti canturini, lì si lotta contro una moschea con il nostro parlamentare Nicola Molteni, abbiamo cercato di prendere il comune ma non ce l'abbiamo fatta, ce la faremo perché continuiamo assolutamente a lottare, la Patrizia Marzorati è segretario della circoscrizione di Olgiato e Comasco, non te l'ho ancora detto, stiamo organizzando, noi siamo Olgiato al confine con i cugini e ma fratelli di Varese e per Natale ci troveremo Francesca a metà strada e faremo un aperitivo di Natale, un momento divertente di incontro ma anche di politica dove rafforzeremo il nostro legame come Varese, ci prepariamo a Olgiato e Comasco per le elezioni comunali, anche lì saremo in battaglia e assolutamente vinceremo. E saluto Erba, la circoscrizione di Erba con il segretario Stefano Meroni, vedo Erica Lirivolta, Erba carica di storia, anche lì negli anni 90 a casa proprio della Erika arrivava da tuo padre Umberto Bossi e si parlava di libertà, di autonomia, di indipendenza, anche lì è nato il nostro movimento, è nata la Lega Nord, Como, c'è qua il capogruppo, Diego Peverelli con Gian Piero Aiane, abbiamo due guerrieri in comune, un comune amministrato, dalla sinistra saluto il segretario circoscrizione di Como, Davide Grandi è lì di lotte e di battaglia, ne abbiamo tantissime, lottiamo per avere per riappropriarci del nostro lago, dopo gli scempi che stanno facendo per costruire queste paratie, e per mettere in sicurezza il lago i cittadini di Como ci chiedono di riavere il proprio lago, abbiamo uno, più moschee, abbiamo più luoghi di incontro, tra cui una che è stata attenzionata dal Ministro dell'Interno, sono state fatte anche dell'espulsione, abbiamo in tutta la provincia più di mille profughi che noi chiamiamo clandestini, ora io da questo palco, rappresentanza della provincia di Como, se ci sono anche i giornalisti chiedo al prefetto che non riconosciamo, rappresentante del governo sul territorio, che ogni singolo clandestino in primo luogo venga rispedito a casa propria, e visto l'emergenza che stiamo vivendo dopo quello che è successo in Francia, che uno ad uno vengano assolutamente controllati, perché noi di loro non ci fidiamo, non abbiamo paura, ma siamo preoccupati, siamo preoccupati per la nostra sicurezza e per la nostra gente, noi non chiediamo più controlli, sì li chiediamo, chiediamo più agenti, più agenti di polizia, più carabinieri, più auto, più intelligence, su tutto il nostro territorio, c'è qua il nostro presidente Roberto Maroni che ha fatto il ministro dell'interno, ma torna Roberto, torna a fare il ministro dell'interno, perché con Alfano è una vergogna, siamo tutti assolutamente in pericolo, e saluto l'Alto Lago, la parte occidentale, la sponda occidentale del lago di Como, ed è bellissimo, perché proprio settimana scorsa abbiamo fatto una cena, abbiamo fatto una cena dove gli ospiti d'onore erano Umberto Bossi e Matteo Salvini. Umberto Bossi, la storia, Matteo Salvini, il futuro, e c'erano più di 300 persone, ed è stato un momento bellissimo e di rilancio anche per la zona del nostro lago. I giovani padani, ho avuto l'onore di fare coordinatore ai giovani padani a Lombardia, prima il coordinatore provinciale di Como e prima ancora il coordinatore dei miei ragazzi di Erba. Saluto con un sencumas che è sempre fa di strasci, il coordinatore provinciale Cristian Magna, avanti ragazzi, anche voi, con Matteo, siete il futuro e siete il futuro per la nostra provincia. La provincia di Como, mi rivolgo al futuro segretario nazionale Paolo Grimoldi, lotterà, e mi rivolgo anche al Presidente Maroni, per il referendum d'autonomia della Lombardia. Quando vediamo le cifre del residuo fiscale ci vergogniamo e la voglia di andare in battaglia a Roma aumenta sempre di più. Saluto i sindaci, saluto i nostri sindaci guerrieri della provincia di Como e per salutarli saluto un amico, un fratello che in questo momento da casa ci sta seguendo ma sta lottando. Il sindaco di Nove Drate, militante, Maurizio Barni, e vi chiedo un applauso. Ciao Maurizio, sei qui con noi. E ho salutato Nicola Molteni, nostro parlamentare, che è in Commissione Giustizia a Roma. Lui è sempre presente sul territorio. Quando succede qualcosa i nostri militanti lo chiamano e lui c'è. Lui va a Roma, va sul territorio e scrive centinaia, centinaia di interrogazioni sui problemi che gli vengono riportati dai nostri cittadini e dai nostri militanti e cerca sempre di trovare una soluzione concreta. Poche chiacchiere ma tanti, tanti fatti. La provincia di Como si sta preparando anche per le elezioni amministrative. Partiremo dal Giatecomasco e poi andremo a Como, a Erba e a Cantù. E anche lì daremo battaglia. Io saluto e faccio i migliori auguri al segretario nazionale Paolo Grimoldi. Con lui insieme abbiamo macinato chilometri e chilometri quando lui era coordinatore federale del movimento Giovanni Padani. La provincia di Como, non lo vedo, la provincia di Como Paolo lascia nella tua macchina con cui girerai tutta la Lombardia, lascia i pensieri dei comaschi Gianfranco Miglio e di Monsignor Alessandro Maggiolini. E ti chiede di lottare sempre, come mi ha insegnato Paolo e come ha insegnato a tutti i ragazzi, di portare avanti il tuo mandato e di lottare sempre con la testa, col cuore e con il coraggio, ma soprattutto con il cuore, perché senza il cuore, amici, non andremo mai e non si va da nessuna parte. Viva Umberto Bossi, che è la nostra storia. Viva Matteo Salvini, grazie, che è il futuro, sempre in battaglia fino alla libertà e fino alla nostra indipendenza. Grazie, amici.